Grazie! 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 Allora, forse ti è mancato un po' di tifo a Tocchio, ho visto che hai pensato al tuo paese, alla tua famiglia mentre l'hai là, quindi questo è il nostro benvenuto, come l'altra volta sperando che ce ne sia una terza ovviamente, ce l'auguriamo tutti, quindi un grazie di cuore a nome di tutto il ralasso. No, invece no, è stato bello, grazie, sono senza parole, veramente, è bello essere parte di una comunità e per me, cioè, è importante, io tengo il mio paese, sono orgogliosa di essere il ralasso. E noi teniamo a te! Grazie! Grazie!